Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi Oggi abbiamo la pizza da mangiore Sono molto affamata Comincio a tagliarlo Sono le due di pomeriggio Due passe e una paname Mi sono messo i microfoni il più vicino possibile Con la sensibilità più alta In modo che si sentano molto i suoni di masticazione Infatti in questo video sentirete suoni di masticazione di me che mangio Se non vi piacciono, se vi disgustano, se qualunque cosa Chiudete questo video immediatamente qui Inoltre parlerò anche di serie tv Perché è un format che mi piace molto E' un format che mi piace molto E' un format che mi piace molto in questo video parlerò anche di serie di un mi piace fare video eating parlati in cui si fanno un po' di chiacchiere perché trovo che ce ne siano talmente tante di video di eating i miei non sarebbero nulla di che da più questi video come una pausa brando insieme in questo video acqua naturale, ho della pesca, acqua naturale, non bevo altro e so anche ragazzi questa non è la vera pizza napoletana eccetera eccetera sì l'ho assaggiata, sì è diversa, sì non ho tempo di andare a Napoli per fare un video di fitting quindi mi sono segnata tutte le serie tv che ho guardato in questo periodo e con questo periodo nintendo tipo da aprile perché c'è anche trono di spade e ve ne voglio parlare un pochino più che altro consigliarvi nei tempi cosa ne penso eccetera una fame non avrà un aspetto glorioso ma è buono allora prima serie tv con un soffazzoletto è Jane the Virgin, come fate chiamarla quindi Jane the Virgin è una serie che ho iniziato a vedere su Netflix e a 5 stagioni penso che su Netflix ci siano solo 3 o 4 al massimo è finita quest'anno è una serie tv che fa ridere e un po' piangere e prende un sacco fantastico scusate sto mandando con la finezza di uno cerronde ma sono un po' scomodo e parla se qualcuno l'ha già vista parla di questa ragazza che era a Virginia e suonano l'ossessionava con la virginità e tutto e intanto questo succede nella prima o seconda puntata rimane incinta attraverso un'inseminazione artificiale ed è ancora vergine ed è molto carina e divertente però appunto non annoia perché a me le serie tv sono solo divertenti dopo un po' annoiano a parte i pigmenti però è veramente carinissima affronta anche delle tematiche molto insomma delle tematiche abbastanza serie in modo sempre molto dolce la protagonista è dolcissima quindi super consigliato e ogni cosa è qualcosa di leggero da guardare ecco un'altra serie tv che ho finito ed è finita è Big Bang Theory che mi è dispiaciuto molto che sia finita perché è un set tv che non ha perso nonostante le tantissime stagioni e puntate la sua ironia è stupendo è solo migliorato in realtà io lo seguivo da una vita tipo dalle superiori o secondo o terza e quindi siano molto affezionata a questa serie non potete non averla vista andiamo e se l'avete lasciato un po' lì recuperatela perché è molto carina passiamo a serie tv molto più pesante che è Chernobyl non c'è bisogno di dire la trauma di lei e ho fatto da dio ho fatto veramente stupendo pespiso cioè io stavo male dopo ogni puntata però è davvero 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 la pena vederlo e con calma magari siete persone un po' sensibili anche non da soli e non sono riusciti a me con dare una puntata l'ho sempre aspettato il mio fidanzato perché è molto pesante ci sono particolarmente fatiche a vederle perché è molto pesante perché è successo davvero però veramente fatta stupendamente un'altra serie che è finita è Orangist and You Black anche questa la seguivo da anni e ero proprio affezionata ai personaggi non vedevo l'ora che uscisse è stata abbastanza diversa l'ultima stagione dalle altre personaggi sono cambiati e per chi non sapesse cos'è Orangist and You Black è una serie di Netflix che parla di chi ha come protagonista Piper che è una ragazza figchettina che se possiamo dire che va in carcere per una cosa che ha fatto anni 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 prima e diciamo che poi la sua permanenza in carcere si prolunga e poi vai a incontrare tutte le persone che effettivamente sono in carcere e tra l'altro com'è proprio tema mi appagino tantissimo sia il carcere in generale che i carceri americani che sono un mondo sestante ed è molto molto interessante a volte a tratti pesanti a tratti leggero mi è piaciuto più dalla scorsa stagione l'ultima stagione è veramente molto carina e bella è una serie che vi consiglio tantissimo ma ci sono stupendi poi curioso ogni volta che scopri che scopri perché è un personaggio in prigione eccetera è un botto interessante ve la consiglio tantissimissimissimo poi un bel argentino neanche ho finito il trono di spade guarda il trono di spade io sono piena di dire che lo guardavo tipo dalla terza stagione ho guardato la terza stagione in diretta solo le prime due le guardate una dietro l'altra invece molte persone le guardavano hanno guardato dalla quinta dalla sesta io l'ho scoperta prima e vabbè ci sono parecchie recensioni comunque su me vale comunque appena guardarla in generale è entrata nella storia ok passiamo a una serie tv che mi è un po' andata giù che è Victoria Victoria è la storia della regina Vittoria Inghilterra Trisavora Tristrisavora Bisbisavora non lo so dell'attuale regina in Inghilterra Isabetta II e le prime stagioni sono stupende mi sono piaciute molto soprattutto la prima è comunque fatto molto bene è molto interessante e tra l'altro i due protagonisti c'è Victoria e il principe Alberto stanno davvero insieme gli attori stanno davvero insieme nella vita reale cosa che è molto carina e secondo me dà molto nei telefilm e anche un buon insegnamento di storia devo dire la verità ripassi un bel po' di cose è molto carino la realtà stagione forse l'ho vista con un po' meno di attenzione ma mi ha annoiato leggermente continuo comunque a seguirla non so se uscirò un'altra stagione l'ultima perché mi sono avvenzionata ormai non voglio sapere come fa a finire perché è storia però comunque mi sono avvenzionata ai personaggi eccetera difficilmente io lascio le serie tipo lì deve essere proprio lunghe e pesante tipo Gossip Girl non ce la ce la più quindi sì se vi piacciono se io di principessa regine tipo non so Versailles ne va proprio un sacco un sacco così le crown invece non mi è piaciuta l'ho già tenuto proprio la prima puntata comunque vi torno di queste e ve la consiglio un'altra serie tv che all'inizio mi piaceva ma che poi mi ha stufato è Revenge una serie vecchiotta tipo il 2014 è finita da un po' e me l'avevo consigliata Netflix quindi proviamo all'inizio mi piaceva molto poi forse ho un po' adazerato devo guardarla molto più lentamente magari con molte più pause però dopo un po' veramente ho detto vabbè mi leggo la trama e guardo solo le ultime puntate ed è ciò che ho fatto un po' pesante la prima stagione è molto carina ecco se proprio guardate la prima stagione se avete voluto guardare qualcosa di nuovo passiamo a una serie tv che mi avete consigliato voi e che mi è piaciuta tanto 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 e di cui non mezzo l'ora escherà terza e ultima stagione e si tratta di dark 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 tagliamo sta pizza ma questa pizza è freddissima è buona lo stesso vuoi piacere la pizza fredda? dark parla praticamente di posso dire sì viaggi nel tempo è super misteriosa comincia in questa cittadina chiamata winden sfigatissima della germania quindi io scapperei le gambe levate però e appunto succedono dei rapimenti e robe strane e poi si scopre pian piano che fine hanno fatto queste persone e c'entrano va non vi voglio spiegare però sì è è intrigante bisogna starci molto attenti ma è super 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 consigliata e peggio sia a me che il mio ragazzo quindi è molto bello guardarla anche insieme fare farsi nuove idee nuove teorie eccetera serie tv che appena 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 ho visto di vedere tipo ieri è la seconda stagione di Elita mi piace un po' nessuno di quando si attende al primo morso mi è piaciuto un po' mi è piaciuto un po', mi è piaciuto più della prima la seconda stagione la seconda stagione di Elita perché poi ho fatto dei tagli e invece da veramente tanto mi ha preso penso più una serie tv questo sia più una serie tv per donne poi mi è piaciuto così però in generale piace più le donne che il nome invece da Arco piace entrambi e bello super promosso anche questo è di Netflix la trovate su Netflix Netflix sponsorizzami ti prego a parte sotto e parla Elita parla di dei ricconi che frequentano un collegio spagnolo e che nella prima stagione praticamente va a fuoco una scuola che non è una scuola non so e quindi si va a fare delle borse di studio da ragazzi mi sembra che invece non sono ricchi quindi poi c'è anche lo scontro insomma fra ragazzi ricchi e ragazzi non ricchi più che lo scontro è il rapportarsi insomma fanno un po' altre riequilibri questa è la prima stagione nella prima stagione si scopre appunto che c'è stato un omicidio è la prima della prima si scopre che è stato invece all'inizio della seconda fanno vedere che c'è stato un rapimento ed entrambe praticamente fanno un po' come casa di carta sarà tipico delle serie spagnole non lo so fanno vedere tipo 84 ore dopo e poi stanno 84 ore prima di questo avvenimento a volte anche dark lo fa tipo non so vedi la scena del rapimento vedi che cerca in tutto quanto e poi va indietro tre giorni prima e vedi cosa succede se pian piano arriva a quel punto e consigliata bella bella in Sì, sì, sì. sono consigliati 30 morsi per ogni boccone non fratti 4 in questo video molto male l'ultima serie tv che vi consiglio è Lucifer che ho visto un po' di tempo fa mi è piaciuta un po' e parla di un punto lucifero che va sulla terra va a Las Vegas ai nostri tempi e decide, di solito ci stava per un po' invece decide proprio di starci definitivamente diciamo che comunque è una persona particolare quindi l'attore è bravissimo è un voto divertente il personaggio un voto divertente quella serie tv in generale è proprio divertente non è pesante assolutamente però non è neanche noiosa ok io ho finito di mangiare spero che questo video è un pochino più tranquillo ecco è veramente semplice vi sia piaciuta e penso sia giunta l'ora di abbassare e augurare augurare una buona 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 buonanotte spero non abbia troppa fame ora sogni buonanotte 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 ładunanotte buonanotte buonanotte buona bottiggini un bacione che è libero